ancora una volta ciao ragazzi come vedete siamo di nuovo nel mondo sospetto dove la scorsa volta siamo spawnati in quest'isola e c'era tutta questa roba e ci siamo fatti un po di materiale abbiamo preso un coltello che abbiamo trovato in una cassa di quelle e nell'ultimo episodio non c'era quel cartello io ho già letto cosa c'è scritto allora vai nell'isola piccola e lo troverai intende il tesoro e io già vedo qualcosa io ci andrei quindi andiamo a prenderci la nostra roba oh il magma blocco ci sono dei cartelli c'è dell'oro oh no hai trovato il finto tesoro nell'isola a fianco lo troverai quindi questo era il finto tesoro prendiamoci l'oro non so se fidarci allora non lo so io intanto metto a cuocere il tinor non so cosa sia ma lo cuocio lo cuocio eh ah qua mi faccio un'altra fornace così posso andare a cuocere l'oro cioè sciogliere l'oro con cosa dai non c'ho niente mi prendo metà di questo ah finito qua lingotto di stagno oh lo stagno è qua eh cosa è successo è la stessa tinax ascia di quarto questo va nove nove allora no velocità uno punto spero no allora allora facciamo facciamo un secchio che non si sa mai non si faceva così sì boh forse non si fa così vabbè non fa niente allora i negozi sono pronti ora ora devo andare in quell'altra isola non so se fidarmi però allora un ocelot io per fortuna sta venendo il giorno o no o no mi sa di sì qua ha cambiato qualcosa no la porta maledetta qua ci sono ancora coltelli ai 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 andiamo qua nel liso c'è un ocelot che cammina per l'isola cos'è stato? avete sentito? eh la continua cos'è quello cos'è qualcosa? mmm boh e sarebbe? la papaya ma si mangia no? o si deve tipo cuocere? no qua c'è la giungla più foresta normale mmm l'isola a fianco quella non credo questa quindi facciamoci tutto il perimetro dell'isola non vedo niente per il momento qua deve ancora caricare oh mamma un pavone io non vedo niente muscerini non sto trovando niente vabbè io prendo un po' di legno per perché comunque ci serve forza forza cos'è quella costruzione? ah questa si trova spesso nel in questi posti porca devi usare l'ascia attenzione pappagalli cosa ho messo sbaglio? c'era la trappola una tra... là o no? eccola cosa ho attivato? qua non c'è niente ecco oh mamma oh the ender che spadona oh mamma non credo sia questo il tesoro però oh mamma prendiamoci tutto mamma mia mamma mia nabbi non mi avete preso troppo bravo altro oro due spade quindi vediamo l'ascia 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 non si sa mai troviamo un arco prendiamoci le frecce risaliamo questo lo chiamo il tesoro non credo perchè le spade sono anche esaurite a salire più sopra non vedo niente no abbiamo voluto usare le liane si è baggato no ma bastava fare così niente 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 c'è sto rumore del gorilla oh no allora sistemiamoci le cose cos'è steadfast drone tropical drone e vincente cos'è questo proviamo anche questa non funziona e neanche questo non ho un po' ce l'hanno ecco sto oselot ti prego ti scongiuro mamma mia quanto è veloce ce n'è un altro due colpi mamma mia allora ragazzi per questa volta pure la mia skin si è baggata possiamo concludere e io vi auguro una buona giornata ciao ragazzi